buongiorno a tutti e bentrovate a questa edizione straordinaria di a domanda risponde dove parleremo di utilizzazioni assegnazioni provvisorie 2024 2025 visto la firma dell'intesa dell'ipotesi del contratto integrativo proprio sulle utilizzazioni assegnazioni provvisorie 2024 2025 diciamo subito che le regole saranno relative proprio a questa intesa ma l'impianto diciamo globale risale al ccni utilizzazione 2019 2022 diciamo che questo contratto era scaduto nel 2022 ed è stato prorogato per il terzo anno consecutivo andiamo a vedere la prima domanda dunque capiamo chi può e chi non può fare domanda di assegnazione provvisoria sono una docente ne ha assunta dalle gae scuola primaria nel 2023 2024 dunque ne ha assunta a partire dall 1 settembre 2023 non ho nessuna deroga dunque non ho figli di età inferiore ai 12 anni non ho situazioni di 104 parentale non ho dei congedi straordinari da per la 104 per assistere qualche familiare non ho nessuna situazione per cui possa derogare per il vincolo triennale di mobilità ho già superato l'anno di prove sono titolare nella scuola a del comune b della provincia x posso fare domanda di assegnazione provvisoria nella mia stessa provincia x di titolarità ma per il comune c dove chiedo ricongiungimento al coniuge assolutamente può produrre domanda di assegnazione provvisoria provinciale per come prevede il comma 2 dell'articolo 1 dell'ipotesi d'intesa del ccni utilizzazioni e assegnazioni provvisoria 2024 2025 i docenti a qualunque titolo destinatari di nomine a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto per l'anno scolastico 23 24 oppure avendo il vincolo triennale della mobilità possono presentare in ogni caso domanda di assegnazione provvisoria utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza passiamo alla domanda numero 2 sono una docente ne ho assunta nel 2023 24 su posto di sostegno da prima fascia gps in una scuola a di torino non ho potuto svolgere l'anno di prova perché in stato di gravidanza o la deroga per avere una bambina di due mesi posso fare domanda di assegnazione provvisoria per ricongiungimento al coniuge in provincia di cosenza purtroppo manca la condizione imprescindibile per coloro che si trovano di ruolo con contratto a tempo determinato cioè quella di aver superato il periodo di prova e formazione per cui non potrà presentare istanza di assegnazione provvisoria per la provincia di cosenza dunque pur avendo la deroga perché ha una bambina di due mesi di vita eppure diciamo e avendo diciamo le carte in regola da questo punto di vista non avendo fatto l'anno di prova nel 23 24 e dunque rimanendo a tempo determinato non potrà fare la listanza di assegnazione provvisoria interprovinciale verso cosenza purtroppo l'intesa non ha previsto deroga in questo senso domanda numero tre sono una docente neo assunta 2023 2024 da prima fascia gps sostegno in una scuola a di milano ho superato l'anno di formazione di prova sono madre di una bambina di cinque anni volevo sapere se posso fare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per il ricongiungimento alla figlia che risiede a catania e in che fase di sequenza operativa verrà trattata la mia assegnazione ai tutte le carte in regola tutte le condizioni per presentare domanda di assegnazione provvisoria verso la provincia di catania avendo quindi superato l'anno di prova e avendo la deroga di essere madre di una bambina di età inferiore 12 anni la tua fase ecco attenzione di sequenza operativa è successiva alla fase 40 dei docenti che si trovano già a tempo indeterminato ma precede la fase 41 dei docenti che si trovano a tempo indeterminato ma non sono specializzati sul sostegno questa novità è importante perché l'anno precedente dunque una miglioria del in questo senso perché esisteva la fase 42 che era posto ma la fase 41 dunque i docenti specializzati venivano trattati dopo i non specializzati e venivano trattate addirittura dopo coloro che erano a tempo indeterminato ma dopo coloro i precari che vi venivano diciamo così messi da parte i posti invece in questa fase ibrida c'è la fase 40 bis chiamiamola cioè successiva la 40 ma precedente alla 41 c'è una una novità di non poco conto che è importante diciamo far conoscere speriamo che le risposte alle vostre domande siano utili a tutti i nostri telespettatori seguiteci nelle prossime ore nei prossimi giorni per le dirette che andremo a fare come tecnica della scuola proprio per rispondere a più domande possibili e nei vari casi personali personali e un saluto a tutti quanti